Al comunale di Scoppito termina a reti bianche un match dai due volti tra Amiternina e Celano, con un primo tempo piuttosto movimentato ed una seconda frazione a ritmi davvero bassi. Pesano le essenze da ambo le parti, con Santiago Salvato ai box per gli Scoppitani e Marfia e Tabacco per la band di mister Dario Celli. La partita si accende dopo 30 secondi. Ci prova subito Di Gaetano con la sfera che va di poco alta sopra la traversa. Dopo due giri di lancette risponde l'Amiternina con Lepidi che in diagonale sfiora il vantaggio. Settimo minuto, sforbiciata di Capitan Valente, Santoro con la mano di richiamo è prodigioso e manda la sfera in angolo. All'ottavo il Celano si rende pericoloso su palla inattiva, doppia traversa, poi l'arbitro fischia fallo in attacco. Un minuto dopo di nuovo pericoloso Lepidi che a portiere battuto si vede respingere la sfera sulla linea da Ciccarelli. Al diciassettesimo si fa vedere Mancini che in girata manda di poco fuori. Trentaduesimo minuto, contatto dubbio in area di rigore con il direttore di gara che lascia proseguire il gioco. Il Celano perde palla in disimpegno, cross di Pavloskis per l'inzuccata di Lepidi che batte Santoro. L'assistente però alza la bandierina ed il gol è annullato. Il primo tempo si chiude quindi con le proteste dei giallorossi nei confronti di Gian Lorenzo di Sulmona. Fin qui le occasioni della prima frazione di gioco sembrano il preludio ad una partita scoppiettante, tutt'altro invece. Nella ripresa le due squadre sembrano accontentarsi del pareggio e nell'arco di 45 minuti si registrano soltanto due occasioni per l'Amiternina. Al sedicesimo infatti Valente verticalizza per Ramos Moreno, in chiusura Iezzi controlla erroneamente rischia la frittata. Salvo poi rimediare murando il numero 9 Amiternino. Al ventottesimo minuto doppio miracolo di Santoro, oggi il migliore dei suoi. In sala stampa spazio alle voci dei due tecnici. Mister, molte occasioni nel primo tempo, un secondo tempo totalmente sottotono, ma comunque soddisfatti di questo punto? Primo tempo fatto bene, diverse occasioni a tu per tu con il portiere abbiamo avuto, un gol annullato da rivedere. Poi al suo tempo fisicamente siamo un po' scesi, loro sono anche abituati a giocare in un campo pesante. Domenica c'è da battagliare, andiamo contro una squadra in salute che oggi credo che ha pareggiato con l'Aquila, se non mi sbaglio. Pareggiare all'Aquila non è facile, quindi sarà una squadra in salute e la affronteremo con il piglio giusto sicuramente. Amiternino ha dimostrato di essere una buonissima squadra che giocando palla a terra ha creato diverse situazioni sia nel primo che nel secondo tempo. Noi siamo arrivati qui in 11 contati con 4-5 ragazzi e gli allievi in panchina, ma poi non abbiamo fatto cambio. Abbiamo pagiato con quegli 11 che avevamo oggi per via di infortuni e squalifiche. Soddisfatti anche voi di questo punto? Sì, sì, chiaramente sì perché ci avremmo messo una grande firma prima per come ci arrivavamo e poi comunque la squadra avversaria è una squadra forte. Il giro di ritorno ha fatto vittorie importanti, ce l'aspettavamo proprio così la partita. Ed è chiaro che coloro con un po' di fortuna in più oggi avrebbero potuto portarla via, quindi per noi è veramente un punto guadagnato.